ok con questo video andiamo a vedere come passare da cliente a collaboratore o cliente privilegiato ok quindi andiamo a fare la nostra login quindi come username scriveremo qua la mail e come password la password solitamente io metto la mail username e il numero di telefono nella password e poi entriamo nel virtual office quindi una volta inserito i dati entriamo nel nostro virtual office con entra ok una volta entrati questo siamo dentro nell'account da cliente andiamo a cliccare qua diventa anche tu incaricato snap ok quindi procediamo con per diventare incaricato ok qua bisogna inserire la password che abbiamo detto che è il nostro numero di telefono ok andiamo avanti poi qua poi dobbiamo qua se vogliamo inseriamo i dati i dati con cui la snap ci darà ci pagherà ogni 15 del mese se non li sappiamo possiamo inserirli anche in un secondo momento come qualsiasi dato possiamo modificarlo in qualsiasi momento a questo punto andiamo a selezionare il nostro kit d'ingresso che costerà in questo mese di dicembre 59 euro scontato altrimenti costa 112 euro ok andiamo a fare la scelta e a questo punto scegliamo se pagare con paypal bonifico o carta di credito una volta che è stato fatto accettiamo accettiamo e ok confermiamo la nostra iscrizione tutto qui